In realtà mi pare che la polemica in questo momento non sia tra Arcuri e le regioni, ma più tra il commissario e coloro che avrebbero dovuto distribuirle, parliamo in particolare delle farmacie. Io non so addentrarmi in quella polemica perché non è il mio compito e non sono protagonista delle discussioni o degli eventuali accordi che erano stati presi. Se posso dirle però devo confermarle che da quando Arcuri è arrivato il flusso verso le regioni è migliorato notevolmente. Noi abbiamo bisogno per il personale sanitario e sociosanitario, mediamente di quasi mezzo milione di mascherine al giorno e queste sono regolarmente arrivate in queste settimane. Devo anche dirle che noi proprio per ciò che siamo riusciti a vedere prodotti da soli, da aziende del territorio, quello che avevamo anche trovato noi, quello che è arrivato da Roma, noi pensi che in queste tre settimane distribuiamo qualcosa, abbiamo già distribuito, stiamo per distribuire qualcosa come oltre 12 milioni di mascherine gratuite che l'Emilia-Romagna come regione, spesso attraverso i comuni, mette a disposizione sia delle imprese per darli ai propri lavoratori e lavoratrici che riprendono a lavorare, sia ai cittadini. Noi arriveremo a dare nel giro di 20 giorni 8 milioni di mascherine ai comuni, anzi 10 milioni da distribuire gratuitamente ai cittadini dell'Emilia-Romagna. Io mi auguro che questo tema si risolva perché è evidente che se diciamo io le ho rese obbligatorie ai luoghi al chiuso e all'aperto qualora non ci sia il distanziamento, è chiaro che mi auguro i cittadini al di là di quelle che noi distribuiamo gratuitamente, posto che al personale sociosanitario e sanitario arrivano regolarmente ma a tutto il resto i cittadini possano sapere dove andarle ad acquistare, supermercati o farmacie o i luoghi dove le vendono.